La 48esima prezzo dei vini, questo raccomando è Andrea Cacciotti della Casillo Maserati, ha fatto il vuoto lungo le rampe di Oliva Gessi. L'applauso meritato per il torino fatore, la 48esima prezzo dei vini, Andrea Cacciotti. Il signore piccolo terza piazza, il signore di Baggio Alcini, è stato completo il forno di giornata. Con la maglia rossa, la maglia offerta da Maresi, servizi in strada e civile, il vincitore. Eccolo alla vestizione, dunque, ufficiale del vincitore della 48esima prezzo dei vini, Andrea Cacciotti, che riceve la maglia rossa, la maglia Maresi, servizi industriali e civili, direttamente dal sindaco del comunico di Corvino San Quirico, il signore Michele Lanati. Non l'ho visto, un'altra volta!